buongiorno siamo ancora qui con i nostri video innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per il sostegno che mi state dando il mio canale è arrivato a circa mille visualizzazioni che in totale diciamo sono poche se le relazioniamo al numero dei video che ho pubblicato però diciamo che per quello che è il mio target non mi interessa avere una esplosione di visite o cose del genere però invece il mio interesse è di lasciare questi video come se fossero una specie di archivio quindi non legando i miei video all'attualità già so che i video che adesso ci risultano utili sia adesso come fra 3 4 anni 5 anni 10 anni quindi mi interessa appunto rimanere una sorta di piccola costante nella vostra passione quindi vi ricordo di seguirmi su facebook instagram trovate tutti i link in descrizione su instagram mi sto divertendo parecchio perché oltre ad essere seguito seguo a mia volta degli utenti con dei profili molto interessanti passiamo all'orologio di oggi prima di presentarvelo devo ringraziare il mio amico mauro perché questo orologio mi è stato regalato da questo amico quindi non l'ho acquistato ma mi è stato regalato io non conoscevo questo orologio quindi non era nella mia lista dei desideri però quando poi me lo ha regalato mi è sembrato subito molto simpatico a suo modo interessante perciò ve ne sto parlando quindi diciamo subito che si tratta di uno slava al quarzo e gli orologi russi ci hanno abituato a altri tipi di movimenti soprattutto carica manuale in alcuni casi anche con ottimi calibri automatici però slava è uno dei marchi di orologi russi che ha introdotto i movimenti che volgarmente possiamo definire a batteria e quindi diciamo che slava è quello che si è fatto fra i marchi che si è fatto più di tutti promotore di questa corrente quindi diciamo che in questo modo slava e ha guadagnato una fetta di mercato abbastanza precisa e quindi ha avuto un target di clientela ben selezionato e si capisce questo anche guardando l'orologio in questione quindi che cosa possiamo dire subito a prima vista basta poco per dire che questo è un orologio che può risultare meno impegnativo del solito rispetto a quella che è la media degli orologi russi perché non c'è un aspetto neanche vagamente militareggiante nessuna commemorazione nessuna funzione specifica questo è un normalissimo orologio semplice nudo e crudo io lo immagino orientato da una clientela giovane o anche femminile e vi dico qualche motivo innanzitutto c'è la questione della batteria voglio dire intanto che con questo non significa che le donne non siano in grado di gestire un orologio a carica manuale un orologio automatico assolutamente però qui insomma abbiamo a che fare con un bel quarzo girando la cassa possiamo vedere il sistema per l'alloggio della pila quindi che va svitato per metterci la pila un altro elemento è sicuramente la dimensione perché qui abbiamo a che fare con una cassa di 33 mm circa se non dovrei aver misurato 33 mm col righello che è una misura diciamo che nel panorama degli orologi russi degli anni 90 rappresenta sicuramente una minoranza dico anni 90 perché fra l'altro vi faccio vedere che nel dial c'è la dicitura made in ussr la cassa è in plastica quindi nessun rischio di ossidazione il materiale insomma è plastico e il quadrante è molto semplice è nero con i numeri romani gialli e le sfere sono dorate quindi un solo tempo puro non ha neanche la data nessuna complicazione quindi diciamo che nel complesso sembra un orologio che definirei di consumo di quelli che una volta rotti li possono si possono buttare senza problemi quindi si torna insomma al discorso che dicevo del guadagnare una fetta di mercato ben precisa quindi io immagino che slava abbia commercializzato parecchi di questi orologi che diciamo oggi non sarebbero nemmeno apprezzatissimi a livello collezionistico però diciamo che chi comunque ama l'orologeria russa poi deve contemplare nella sua collezione anche questi certamente magari non è interessante come un come altri ma ma a me piace parecchio fra l'altro in questo caso possiamo vedere che era stato montato un bracciale di quelli aftermarket però russi quindi il coevo e per quanto riguarda questo bracciale potete riconoscerli da queste scritte vediamo se riesco a farvi vedere non ci riesco va bene però si vede questa è ok quindi questo e poi diciamo che volevo appunto dire che ho fatto questo video perché ho studiato l'orologio per due tre giorni non sono riuscito a capire molto di più rispetto a quello che ho detto quindi diciamo che ho visti parecchi di slava di quarzi eccetera perciò diciamo che in questo video oltre insomma che fare una catalogazione come sempre faccio serve anche per chiedere a voi un parere su questo orologio o per chiedervi se avete link di siti che hanno trattato la vendita o li hanno descritti o comunque se avete foto che possono aggiungere degli elementi importanti su questo orologio allora fatemi sapere se avete delle notizie utili per me in ogni caso vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo video ciao